Ben tornati e benvenuti al mio canale Io sono Alessia, se ancora non mi conoscete vi consiglio di ammessicurare su Instagram trovate il link qui sotto e qui vi rapprescio il mio profilo Come avete letto dal titolo, oggi andrò a mostrarvi la mia routine quando torno a scuola Non so se farò un voiceover o se nel mentre vi spiegherò quello che andrò a fare E ci vediamo nell'outro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.